Sono Lorenzo Vecchietti, dottore agronomo responsabile di ricerche e sviluppo in Hydrofert. In questo video vi parleremo del nostro prodotto Bialga 15. Il prodotto è un estratto di alghe marine della specie Ascofillum nodosum. Abbiamo deciso di sviluppare Bialga 15 in risposta alla crescente richiesta di estratti d'alga per migliorare le produzioni, al fine di ottenere standard qualitativi sempre più alti. Infatti questo fertilizzante migliora le caratteristiche organolettiche dei frutti, il contenuto di soliti totali e conseguentemente la loro shelf life. Bialga 15 è un prodotto che contiene il 15% di sostanza organica da estratti d'alga, tritormoni naturali, enzimi, proteine, vitamine, aminoacidi e polisaccaridi. I composti bioattivi contenuti in Bialga 15 hanno funzione di elicitori, ovvero molecole segnale che vanno ad influenzare il metabolismo primario delle piante, migliorando il contenuto in soliti totali, la fermezza e la dimensione dei frutti. Apporta benefici anche a livello di riduzione dello stress salino e di degradazione della clorofilla. Aumenta inoltre l'efficacia dei fertilizzanti NPK e dei fitofarmaci, consigliati nei piani di concimazione specifici, facilitando quindi la traslocazione nella pianta. Bialga 15 può essere applicato per viafogliare su alberi da frutto, frutti tropicali, orticole e culture ornamentali, alla dose di 3-5 ml per litro e in fertilizzazione alla dose di 8-10 litri per ettaro. Consigliamo l'uso del prodotto per aumentare la qualità dei frutti, nello specifico da prove sperimentali è emerso che migliora la legazione, le rese e il periodo di conservabilità dei frutti.